Grandissimo come molto yes, è fantastico! L'ho sentito! E' un passaggio a ruoto che non manderà assolutamente nulla, ne ho viste la campana e ne ho noti avremo una prima doppia eliminazione di una presenza di ventune a trete. Quindi andrà a proseguire fino al passaggio dell'Italia. Bravo Ceci! Bravissima, bravissima! E' un dubbio però sarà tirato. No, 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 zitta! Ciao Andre! Ciao! Oh Enzo quando era all'altra parte non li vede perché non so perché mi si è fermato lo zoom a due capi. Zoommolo! Zoom dammelo! Dammi a uno! Oh mettiamo un po'! Ciao! Poi! 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 steventura! eliminate, vengono eliminate le atleti 240 e 371, atleti che si devono fermare, salutare le famiglie del campeonato degli appunti, grazie, salutare per la presenza, grazie per la presenza Siamo a meno 8, avremo l'alto di 15, il rimettore, il rimettore, il rimettore, il rimettore vengono eliminate sul traguardo dei miei attori concorrenti numero 100.1 e la concorrente numero 170, eliminate la concorrente numero 121 e 170, che si devono fermare per il rimettore Vengono eliminate le concorrenti numero 109 e la concorrente numero 106, eliminate dunque la concorrente numero 109, la concorrente numero 106, cruza, polino, alessia, che si devono fermare, perché eliminate, sali Marti, sali, 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 sali Marti, sali Marti, una volta basta, eliminate le concorrenti numero 109, 필요areTONio Paqui, salitore, sali, sali, calmate, sali, 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 risortate eliminate le concorrenti numero 107, liberaliigenza fascip ley Carter Sid al solito numeroолж'. eliminate le concorrenti 400-5 di Piappa Sara il 320 Pasqualone di Bistà, questi ab lenderi che si Marti continua Marti Argo Vengono eliminati e sulla traguardo del concerto le concorrenti 169 con la Sicilia che si deve fermare e la concorrente numero 140 con la Sicilia che si deve liberare Deve salire là, deve salire Marti sali! Che cazzo ma il Michele è un ruolo Una misera Una misera Siamo a 4 con Cerni, altra tuttice e di un'azione Ok, passi Una partita Eliminate le concorrenti numero 45, Brandilla Viola, che si deve fermare e la concorrente 16, Bruzione e Marta Lecce, che si deve essere morta a fermare Siamo a 3, abbiamo l'ultima doppice eliminazione Vai Marti, fila al traguardo, dritta, dritta, dritta che sono due Vai, 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 vai Prima La partita, no? Sì, ho capito Ma con l'ansia Voglio rinanzare i concorrenti numero 53, Pionica e Marta, che si deve fermare e la concorrente 117 in Lugola, Sicilia Si devono fermare i concorrenti 53 e 117 Sì, ho capito Sì, ho capito